Ciao, sono Luca Lolletti e vi do il benvenuto su Garage Water Basic, il primo corso entry level gratuito online che approfondisce attraverso semplici video tutorial gli argomenti principali della ginnastica in acqua. Buon divertimento! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! A presto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!